Cari sindaci, amministratori, amici colleghi, le nostre vallate soffrono e sono destinate a soffrire in futuro il peso di questa pandemia che mette a repentaglio, oltre che la salute e la vita stessa, il lavoro e il reddito, le prospettive economiche dei nostri territori. Non abbiamo sforciatoie. Bisogna applicare le regole affinché finisca tutto al più presto. Spero che stiate apprezzando il lavoro di Unce per tenere i collegamenti, comunicare le informazioni, rappresentare a livello istituzionale e governativo esigenze proposte fa bisogno dei nostri territori. Ce la stiamo mettendo tutta, come vedete. Apprezziamo le vostre segnalazioni e cerchiamo di farne il miglior uso possibile. Uncem, come potete constatare, è assieme ad Anci l'organismo sindacale più presente e attivo a livello regionale e a livello nazionale. E posso dire che ai rapporti con il governo, con i ministri, con le espressioni nazionali sono buoni, anche al di là del fatto che anche loro non possono fare miracoli. Spero che sia compreso ed apprezzato il nostro sforzo e soprattutto che serva ai comuni e alle unioni. Poi penso anch'io, come dicono in tanti, che tutta questa vicenda servirà anche a creare più coesione tra i nostri territori, a rilanciare le iniziative unitarie per la montagna, ma perché questo avvenga dovremmo lavorarci con convinzione e grande impegno, come stiamo facendo, come state facendo. Buon lavoro e un abbraccio a tutti.